Scorrendo la classifica, si ritagliano uno spazio i protagonisti della Suzuki Rally Cup. Tra le R1 giapponesi fa la sua figura il giovane aostano Simone Goldoni, in testa dall'inizio alla fine tra le vetture di Yamamatsu e il vincitore della Power Stage sulla Pertiche. Dietro di lui il trentino Roberto Pellè ed il vicentino Andrea Scalzotto. Oggi abbiamo provato a cucirci addosso un pochino la macchina e direi che il risultato premia, premia noi, premia il team a cui faccio i miei più sinceri complimenti. Io e il mio navigatore Flavio Garella abbiamo fatto un ottimo lavoro anche nelle ricognizioni in queste strade molto ostiche. Devo fare un plauso all'organizzazione perché la gara è davvero molto bella, le strade davvero molto belle e insomma tutto a regola d'arte.